Anche i ricchi piangono e anche le grandi star si guardano allo specchio e non si piacciono. Proprio così, questi due luoghi comuni, non senza soddisfazione da parte dei comuni mortali, sono innegabili. Così, la notizia che anche la countautrice Taylor Swift non è soddisfatta del suo corpo ci stupisce poco. Ma secondo la fonte, ovvero showbiz spy, la cantante sarebbe pensando addirittura di eliminare il problema alla radice con un intervento chirurgico. Proprio così, la bella Taylor non sarebbe contenta del suo seno, troppo piccolo, e sarebbe meditando di farlo lievitare chirurgicamente. Addirittura la Swift si augura di avere più fortuna in amore con una taglia o due in più di reggiseno. Eppure, nel curriculum amoroso di Taylor appaiono nomi di tutto rispetto, come Jake Gyllenhaal e Taylor Lutner, conquistati anche senza una taglia bombastica di reggiseno. Ma per scoprire se la fonte è attendibile, basta tenere d'occhio il décolleté della Swift. Se nei prossimi mesi apparirà più florido, beh, sapremo il perché.